Nella difesa delle infrastrutture critiche, quanto è importante personalizzare le regole di detection e reaction? È assolutamente fondamentale perché purtroppo non possiamo portare le logiche IT nel contesto delle operation proprio perché i servizi erogati sono totalmente diversi. In particolare alcune azioni di remediation che potremmo applicare nel contesto IT potrebbero avere degli effetti assolutamente catastrofici sulle infrastrutture e sugli apparati fisici che poi erogano i servizi veri e propri addirittura potendo minare addirittura la safety delle persone stesse. Una sua opinione su CyberSec24? Beh è un'ottima iniziativa, ha messo insieme moltissime persone estremamente competenti siamo riusciti a creare rapporti ancora più stretti in questa community che sarà fondamentale nel futuro soprattutto nel governo di questa nuova realtà che è l'intelligenza artificiale che deve essere assolutamente controllata. Grazie a tutti!